Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, come va? Spero che siete bene e che stai trascorrendo una splendida giornata. In questo video parleremo di Italian Der 21 in quanto si è appena conclusa la gara che ha visto i giovedì Nicolato contrapporsi alla Bosnia-Herzegovina, gara valevole per le qualificazioni a Euro 22. Prima però di andare a un'analisi e un commento della partita vi ricordo di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su appunto l'attività del canale. Ma veniamo comunque a noi una partita meritata, una vittoria meritata da parte dell'azione di Nicolato appunto che ha prevalso sulla portata di Herzegovina per 2 a 1. Gol nel primo tempo di Ocoli e di Vignato con due assist di Tonali, grandissimo Sandrino, e nel secondo tempo a corce e distanze Baricic, difensore centrale classe 2001 del Logiek. Un primo tempo che comunque nazionando l'interventuno ha dominato, soprattutto grazie a un'ottima prestazione di Tonali e soprattutto anche di difensori centrale perché mi sono veramente piaciuti sia Ocoli che Lovato che ad ora purtroppo sta giocando veramente tanto, quasi niente, secondo me anche troppo, poco, ovviamente con l'Atalanta. Comunque una prestazione convincente, un secondo tempo dove l'interventuno ha un po' calato i ritmi, infatti un po' soprattutto nel fine di tempo, di secondo tempo, la Bosnia si è resa abbastanza pericolosa, deve anche ringraziare il portiere Turati che comunque ha fatto veramente delle parate interessanti. Diciamo che quasi quasi dopo che Baricic ci ha accorciato le distanze, l'interventuno stava rischiando anche di andarla a pareggiare. In attacco ha giocato Lunetta attaccando il classe 2000 del Pisa che però diciamo che non è stata la sua migliore partita perché comunque avrebbe potuto fare molto di più una volta che è entrato piccolo e dal suo posto almeno piccolo e ha messo molta fisicità. Luca è uno di quei giocatori che se serviti in un certo modo veramente rendono al mille per mille. Se magari, diciamo, lo stile di gioco, magari la trama di gioco non si confà totalmente al giocatore, diciamo che ancora mossa appunto qualche difficoltà. Però un centroavanti giovane che può molto crescere. Mi è piaciuta anche ovviamente la prestazione di Colombo che, di proprietà del Milan, che ha giocato come attaccante esterno a destra e un ottimo anche vignato. Veramente un giocatore che, nonostante la sua fisicità non particolarmente allucinante, si può riempire ancora, però probabilmente il fatto che non sia così riempito fisicamente può essere un suo plus, nel senso che comunque non va a perdere velocità, non va a perdere scatto. Poi ha quel modo di correre un po' particolare che tiene questo braccio alto, quasi a voler tenere distante l'avversario, veramente carino più che altro particolare, e che comunque veramente, diciamo che appunto in questa partita vignato si è messo veramente tanto in mostra. Buona prestazione anche di Bellanova come terzino destro, però si è capito perché comunque sia il Bordeaux che l'Atalanta non abbiano puntato sul giocatore. Un giocatore di tanta corsa, di tanta sostanza ma di troppo poca qualità. Prometteva tanto nei giorni del Milan ma ancora non ha reso quanto basta, non ha reso QB per diventare importante prima per il Milan, poi per il Bordeaux e ancora dopo per l'Atalanta. Un salvatore esposito che comunque ha giocato anche abbastanza bene, diciamo che Nicolato sta preparando il post tonali, contando che poi ha l'imbarazzo della scelta perché comunque sia Salvatore esposito ma c'è anche Ricci, grandissimo talento dell'Empoli che anche lui può giocare tranquillamente nella posizione di mediano-basso di impostazione. Però veramente un nazionale che mi ha molto convinto. È entrato anche Udogge, il terzino attualmente all'Udinese, anche lui molto interessante. È entrato anche il mitico Nanocchia di scuola Juventus ma comunque in generale una vittoria meritata. Un nazionale che ora si trova secondo in classifica ha una partita in meno o meglio un punto sotto la Svezia capolista che però ha una partita in più. Vado anche a vedere in diretta il risultato della Svezia perché ha iniziato più tardi la partita al 75esimo stanno 3-0. Vediamo anche i marcatori, ok, perfetto. Ah, ok, diciamo marcatori tutti diciamo di svedesi di seconda generazione, vedendo anche i cognomi Enanga, Djigovic e Hayal, giocatori comunque molto interessanti. Una Svezia che nelle sue fila vede anche giocatori molto interessanti come ad esempio il difensore centrale Noah Hayle del Malm o anche un altro difensore centrale, Pavle Vajic, un giocatore classe 2002 se non erro, fatemi vedere, ripeto se non erro, sì, no, 2000, 2000, scusate, che ho avuto l'occasione di vedere da molto giovane con il Malm e che era nato come ala, era nato come, anzi, scusate, come attaccante esterno in un attacco a tre o come seconda punta in un attacco a due. Poi durante la sua carriera calcistica ha retrato, ha passato al centrocampo e ora pensate, gioca come difensore centrale nel 4-4-2 della Svezia Under-21, veramente un giocatore molto polivalente, comunque 188 cm quindi veramente una grande fisicità, come vi dicevo anche c'è Hayle, sempre Scuola Malm, veramente anche lui molto interessante, poi c'è anche Tim Priza, altro giocatore Scuola Malm, figlio di Radepriza, grande attaccante se non erro, classe 1980, grande attaccante insomma della Svezia di tempi passati e che comunque ora, lui è un classe C 2002 che si sta cominciando a mettere in mostra, ma adesso insomma Pavel Vagic gioca comunque a Rosenborg, mentre Priza se non erro gioca a Holborg in Danimarca, comunque un giocatore veramente interessante, staremo a vedere quindi come questi, i nostri giovani uomini di Nicolato riusciano ad affrontare la Svezia, che comunque, sì, la Svezia ha talento, secondo me in passato ne aveva anche di più quando ci stavano elementi di altro calibro, come un Ekdal, come un Schellström, che meno male sono quei tani, ecco, secondo me una volta c'era un po' più, c'era anche Marcus Rosenberg, c'era un po' più di talento. Adesso gli svedesi possono sicuramente molto crescere, però secondo me i nostri se la giocano, perché una volta era più il 18enne svedese che ti gioca titolare in Svezia. Ora diciamo che anche in Serie B, pensando a un Ocoli o un Ricci in Serie A, o a un Tonale ovviamente Punto Carni del Milan, o magari comunque a un Salvatore Esposito alla Spal, o un Colombo sempre alla Spal, insomma Vignato al Bologno ovviamente, ci sono elementi interessanti, quindi staremo a vedere la prossima partita come andare a finire, però ottimo Nicolato, sta facendo veramente un ottimo cammino. Spero che il video ovviamente vi sia utile, in tal caso lasciate un like al punto al video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate le campanee di notifiche e vi rimane sempre aggiornati sulle news del canale. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!